Ciao a tutti dormiglioni, come starete vedendo dallo sfondo, oggi video gameplay di Overwatch. È il primo che faccio, quindi siate clementi con i commenti. So che non è un genere di video che può piacere a tutti. Se non vi piace, tranquilli, non farò soltanto gameplay. Ci sono sempre nuovi video classici, ma questo è un video che mi è stato richiesto molto spesso. E quindi ho deciso di accontentare chi me lo ha chiesto. Arriverà sicuramente anche un video su Fortnite, ma lo sto ancora riscaricando sull'Xbox, perché siccome non so giocare, l'avevo tolto. E lo sto ancora riscaricando. Stasera farò una partita competitiva con il nuovo sistema di match delle squadre, in base al ruolo in cui si gioca. E vorrei giocare in attacco, perché è il ruolo che mi riesce meglio, nonostante giochi parecchio male. E vediamo un po' cosa ne esce. Vi anticipo che sicuramente sentirete un pochino più di macchine rispetto al solito. Perché chiaramente non posso tagliare troppo essendo un gameplay. Quindi nel caso non me ne abbiate. Vi anticipo anche appunto che non sono un grandissimo giocatore, non vi aspettate partite fenomenali o cose wow eclatanti, perché non ne arriveranno. E più un facciamoci due risate alle spalle di Luca. Poco fa ho già fatto una partita competitiva, giusto così per far finta di scaldarmi un minimo partita che ho perso, chiaramente. E per arrivare alla partita competitiva ci ho messo tantissimo la schermaglia, che in questa fase in cui si formano le squadre è durata veramente tanto, è durata all'incirca 20 minuti. Bene, mi hanno appena ucciso. E spero che non duri altrettanto questa, altrimenti a un certo punto la taglierò e passerò poi divertamente alla competitiva. Per chi non sapesse come si gioca a Overwatch, quindi non ha idea di cosa io vado a fare, è un gioco in cui si gioca in due squadre, almeno nelle partite competitive. Si gioca in due squadre da sei persone. Muori, perfetto. Anche se sono quasi morto anche io. E si hanno degli obiettivi, a seconda della mappa, che potrebbero essere conquistare una zona o più zone. Portare un carico dal luogo A al luogo B. Tipo, se dovessi giocare in questa mappa, dovrei portare questo carro tutto verso, lungo la strada. Tutto qui, tutto, 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 fino al punto di arrivo. E poi, quando ci sono queste mappe dove si sposta il carico, l'altra squadra chiaramente deve cercare di non farlo spostare, mettendosi in mezzo. E successivamente si invertono i ruoli e vince chi l'ha spostato di più. Io vi anticipo anche che, siccome rimane pur sempre un video ASMR, non tengo il volume del gioco troppo alto per non ammazzarvi le orecchie. E quindi, insomma, diciamo che il mio fare un po' pietà in questo gioco è di peso anche dal fatto che non sento più di tanto i nemici avvicinarsi. Quindi, insomma, nuovamente siate clementi. Ok, sta iniziando la partita competitiva. Finalmente, speriamo sia una mappa che mi piace. Ok, questa mi piace abbastanza. Dipende un po' la squadra che trovo, se gioca bene o male. Allora, mercato notturno. Usiamo Bastion. Bastion in genere è la mia preferenza quasi sempre al 99% delle volte. Mi piace veramente un sacco. Anche se a tanti non piace. Infatti quando lo uso in genere ricevo abbastanza insulti nella chat di non scegliere Bastion, non capisci niente, ci stai facendo perdere e cose di questo tipo. Ma, insomma, alla fine rimane un gioco e... Prendo gli insulti, insomma. Ok, fra 14 secondi si comincia. In questo caso ci sono tre sottomappe, diciamo, ambientate in Giappone. E lo scopo è conquistare l'obiettivo. Quindi adesso andremo sull'obiettivo e cercheremo di far fuori tutti gli altri per poterlo conquistare e mantenere il controllo. C'è qualcun altro? Ok. Mi stanno facendo fuori. Molto bene. Ma io ricambio il favore. Non ce l'ho fatta, ne hanno fatto fuori. Però, insomma, ne ho già fatti fuori. Sono due, peccato, non mi pareva di più. Allora, in questo caso, come vedete dallo schermo, la squadra rossa, che è la squadra nemica, ha conquistato l'obiettivo e sono già al 28%. Noi dobbiamo cercare di robargliela prima che arrivino al 100% e a quel punto tenerla noi fino al 100%. Dove cacchio è? Qui. Quello è un drone sentinella che dà piuttosto fastidio. Ok, allora adesso noi abbiamo conquistato la zona e dobbiamo mantenerla fino al 100%. Potremmo farcela, sono fiducioso di questa squadra. Anche se il simpatico Reinhard costui mi sta scamando il mio nascondiglio. Insomma, io cerco di nascondermi. No, 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 no. Vabbè. Qualcuno ho fatto fuori anch'io, dai. Se mi rianimasse la simpatica Mercy, ma no, è troppo impegnata a saltellare in giro. Vabbè, per ora abbiamo superato il dominio della squadra nemica, quindi va abbastanza bene. Potrebbe andare peggio, diciamo così. Ok, mi metterò qui così che va bene. Allora abbiamo quasi conquistato al 100% l'obiettivo. Molto bene. Adesso, in pratica, questa mappa si gioca al meglio di tre. Quindi chi ne becca, chi riesce a conquistare almeno due mappe, vince. Noi ne abbiamo già vinta una, quindi forza team ASMR. Vediamo cosa riusciamo a fare. Allora, in questa mappa qui, uso simmetra, c'è una mosca che gira. Magari vedrete qualche ombra. È la mosca che passa davanti alle softbox. In questa mappa qui, uso simmetra, che ha i droni sentinella di cui mi lamentavo prima. E sono molto comodi perché li può lanciare, si attaccano alle pareti e quando un nemico passa nelle zone, si becca il raggio. E in più ha il teletrasporto, quindi ho un vantaggio per spostarmi in determinati punti, tipo qui sopra. Ok. Ok. Uno qui, uno qui e uno qui. Ecco, uno è andato già nel teletrasporto e quindi chissà dove si è infilato. Vabbè, lo ripiazzeremo. Ok, dai, stiamo andando abbastanza bene, devo dire. Potrebbe andare peggio. Allora, riposizioniamo lì. Ok. Messi in questi posti qui riesco a coppare tutti abbastanza facilmente, devo dire. Vabbè, è un buon inizio. Anche se la squadra nemica ci ha soffiato l'obiettivo. L'ultra disimmetra è questa barriera che magari tra un po' attiveremo. Allora, ma cacchia, allora, mi hanno distrutto il telorco. Allora, ne mettiamo uno qui. Uno qui, tanto mi hanno già. Ok. Lo abbiamo recuperato. E uno lo mettiamo qui così. Io non sento il nemico arrivare perché appunto ho il volume basso. Questa potremmo vincerla. E ne sono molto contento. Cacchiarola. Widowmaker mi ha fatto fuori. E chiaramente Mercy non mi sta risuscitando. Grazie Mercy. Gentilissima. Molto utile. Morte. 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 Non ho fatto in tempo ad usare la barriera. Morte. Mercy ha deciso di fare il suo lavoro. Usiamo la barriera. Aspetta. Pisziamolo qui. Dai, devo dire che sto giocando abbastanza bene questa Ok, abbiamo vinto ragazzi Incredibile Il potere dell'ASMR E adesso si vede chi ha fatto l'azione migliore della partita Non credo di essere io Ma infatti Proschilla Zazza Bastion Il mio concorrente Però anche essere migliore della partita Non ha fatto vincere la sua squadra Peggio per loro Meglio per noi Ottimo, ottimo, ottimo Direi che possiamo ancora fare una partita veloce Quindi non in competitiva Tanto insomma Ho pochi punti Vediamo il punteggio In attacco Sono a 1944 In genere navigavo Prima di questa Di questa suddivisione Di match di squadra in passare ruolo Navigavo intorno ai 2003-2004 Facciamo una partita rapida Giusto così per Sveltire un po' di più Visto che la competitiva ci mette moltissimo a quest'ora A beccarne una Allora sta incominciando una partita Rapida Vediamo se è una partita rapida Nuova O se mi infilano in una partita rapida Già cominciata Nelle partite rapide può capitare Ne parmi piace Vediamo, vediamo Allora Dovrebbe essere una partita nuova In questa qui Mi piace usare simmetra di nuovo Perché posiziono in qualche punto strategico I droni E in genere Dà abbastanza fastidio Quindi Missione infastidire gli altri Vediamo, vediamo, vediamo Sì, è una partita nuova Perfetto Allora Non so se questo video verrà pubblicato In una delle fasce d'orario classiche Quindi lunedì, mercoledì o venerdì Bel veterdì no Perché ci sono le chiacchiere del weekend Ma probabilmente verrà pubblicato Penso come bonus La domenica Vedremo Vedremo come risulta più che altro Ok In tutto ciò mi sembra che la mia connessione stia laggando un pochino Quindi Speriamo di no Allora Posizioniamo I droni Ok Messi dove li ho messi In genere non vengono visti più di tanto E Danno una noia Pazzesca L'altra squadra non mi sembrano proprio top Direi che ci sono buone probabilità Di Di vincita Hanno aggiunto recentemente Un personaggio Che non mi ricordo come si chiama Che ha la possibilità di Frecare un po' Diciamo La gravità E lanciare delle sorte di Di massi Che stradiscono A quanto Ed è un personaggio veramente Rompiscature Anche perché può posizionare una barriera Dove gli pare Quindi Ogni tanto Ogni tanto crea Un po' di Di fastidio Ma a questo giro direi che Non dovrebbe darci Grosse noie Non stanno giocando molto bene Gli altri avversari Però io rimango qui A proteggere La zona Che non si sa mai Anche perché Ogni mappo Ha diversi Diversi accessi Al Alle zone Target Tipo potrebbero arrivare Anche da qui sopra E quindi Meglio Star accorti Questa è una di quelle macchine Che non riuscirò a togliere A presumo Ma Vabbè Vado un po' all'attacco Anch'io Perché sennò Viene a noia Ecco Giustamente Mi hanno accoppato Però Vedete che riesco a A fare fuori un po' di personaggi Anche Da morto Grazie ai droni Allora Facciamo subito partire La barriera Così che Protegge Dovresse essercene bisogno Chi è sulla mappa Sull'obiettivo Più che sulla mappa Eccola Fatto fuori Muy rapidamente Dovete sapere che io gioco ad overwatch Soprattutto perché mi Mi scarica la tensione Magari capita la giornata In cui Non dico che discuto con i clienti Perché in genere cerco di evitare Il conflitto Ma a volte magari ci sono dei clienti Che meriterebbero davvero La discussione E allora mi scarico un po' con Con questo Allora direi che no Dobbiamo cambiare personaggio E O 0 Di nuovo Bastion Che in genere mi dà Abbastanza soddisfazioni Allora passiamo di qua Così che vediamo Incontri spiacevoli Ok Ok fuori uno E passiamo da qua Ecco Questo era il masso di cui vi parlavo prima E questa è la barriera Se riesco a farmela vedere No Non più la tolta Ecco l'avete vista un pelino adesso È la barriera che dà veramente fastidio Perché la può lanciare in qualsiasi direzione E farla fermare in qualsiasi posizione Quindi riesce a contrastare Molto bene Quasi qualsiasi attacco Dai che riusciamo a riprenderla No Ha compato Ma potremmo farcela Sono in tre sull'obiettivo E non riescono a farne fuori uno Inquietante Ok E il primo La prima Mappa L'abbiamo presa Quindi Primo punto per noi Il team ASMR Continua a vincere Ora vediamo la seconda mappa Ok Allora in questa In genere uso O Simmetra O Breaking Ball O Bastion Dipende un po' dalla squadra avversaria Cosa mi riesce a far fare Con Simmetra Anche qui posiziono i droni Nel In questa sorta di campanile Che non è un campanile In questa sorta di tempio Non so come Come definirlo E anche lì è abbastanza annoia Ma in genere Questa tattica dura Dura molto poco E allora A quel punto Passo a Breaking Ball Mi aggancio Al Alla piglia centrale E inizio a ruotare Accoppando Tutti gli avversari Ok Diciamo che ora Già qui potrei Molto bene La stiamo giocando Bene Vedete che droni Posizionati Qui Qui E qui Sono utili Perché non riescono A essere individuati Molto facilmente Dagli avversari E quindi Non possono fare altro Che Subirne le conseguenze Quanti quanti ne ho già accoppati Quattordici Non male Non male Me ne hanno distrutto uno Ma noi Lo rimettiamo Vedete che Va Molto bene Ok Mi hanno accoppato con la Ultra Ma va bene Lo si Intanto io ne accoppo Un altro paio Questa addirittura Ha vinto troppo facile Cioè Quasi non dà soddisfazione Ottimo Allora giusto per sfizio Andiamo di Breaking Ball Tanto non so se servirà Ma insomma E ci sto per darvi un'idea Di cosa intendevo Allora mi aggancio Alla piglia centrale E via No botte da orbi a tutti Forse l'ho preso un po' alta Ma No Ok Ne abbiamo vinte ben due Sono sconvolto E Vediamo l'azione migliore Della partita Magari potrei anche se io Non ho ne idea No Chiaramente no Assassin Kenzie McCree Vediamo di che squadra era Nell'altra squadra Ha fatto un bel po' di uccisioni assieme Sicuramente con la Ultra Infatti Ha fatto fuori anche me No Ha fatto fuori solo me No Un paio E E queste quante Insomma Mi do un bel voto Ah Ben due voti Grazie Allora Questo era il mio primo Video gameplay Spero vi sia piaciuto Non esitate a darmi Suggerimenti su come migliorarlo Visto che insomma È il primo E Ogni suggerimento È ben accetto E spero vi abbia intrattenuto Non credo rilassato Perché Non credo che rilassino molto I gameplay Di Overwatch Ma questa è una mia supposizione Fatemi sapere E ci vediamo nei prossimi giorni Con un nuovo video Ciao